eh intanto salti fuori e adesso arrivo io aspetta e bella bravo rifa che ti faccio la foto fa niente dopo si compatta il primo che cade la compatta giù sotto bene fa niente adesso passa a Montesa si compatta tutto lascia 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 ecco chiudi chiudi sotto tuta dentro no adesso tu stai sotto ti chiudi resti fuori con la testa e basta lo sai che spampi e zampi basta che mettono giù due cazzate non escono più eh lo sai già com'è ma non hai capito è bello per noi quello che fai una volta una volta spettacolo una volta per noi scusami eh ma si va in livello e li guarda che che ti fai già spampi te oh guarda guarda quanto ci vuole mettere in crisi i trialisti no no eh ti sembra ma no non è entrare entrare uscire e molle resti lì non si scompone eh andiamo vascio che si vede solo a testa e vi spampi già è corto prima e non saltare eh che se stretta ahahah no di lì non riesco poi vai insieme io scendo e tu mi salti via di qua o di là? dritto comunque è stretta e spampi ha detto che è capace anche col booster di questa roba c'è bisogno di una bomba da ritirare è stretta allora è stretta è stretta perché ti tocca il manubrio quando si dice che bastano 5 metri ti diverti dai che ti seguo allora non ci penso neanche e di là è ancora peggio è buono un cazzo ti va asciudi lì figa no sembra però ci sta dopo un po' che si lima ci passi ti ammazzi figaro ti ammazzi ehi non hai spinta dopo perché se vai troppo piano non hai spinta ma porta già dietro il culo qua se vai piano devi portare dietro il culo beh un buco così lo facciamo anche a Cantù ho è buono un po' che ci sono un po' che non lo facciamo anche a Cantù